Ragazzi, Cristian Cartomanti Europei, ormai questo nome è qualità, vuol dire qualità e professionalità. Sono qui per dirvi una semplice cosa, visitate il nostro sito che è www.cartomantieuropei.com o addirittura visitate Youtube che è sempre Cartomanti Europei e il nostro sito Facebook Rinascente Tel dove ogni giorno dalle 7 in poi troverete l'oroscopo giornaliero, si parlerà veramente del mondo esoterico e potrete rivedere i nostri spot pubblicitari, però andateci, vi farete veramente, io sono orgoglioso di quello che vi sto dicendo per un semplice motivo, perché qui dentro ormai diamo qualità e professionalità e questa cosa non mi stancherò mai di dirvela, veramente. Quindi siamo aperti dalle 7 alle due, per chi ancora non l'ha fatto, visitateci, chiamateci e non me repentirete, da Cristian è tutto Cartomanti Europei.